Musica Incidente questa mattina poco prima delle 9 in via Trucchia Venaria Reale, una Fiat 600 condotta da una donna di 80 anni si è violentamente incastrata sotto una dacia d'Aster parcheggiata. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, la croce verde veneria e la polizia locale. La donna è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e subito affidata alle cure del 118, che l'ha trasportata all'ospedale Maria Vittoria. Le sue condizioni parrebbero non essere gravi. Secondo una prima ricostruzione, pare che la donna, nell'atto di compiere la manovra, abbia lasciato la frizione perdendo il controllo e finendo sotto la dacia, l'accertamento in corso. Grazie Grazie a tutti.